Ciao a tutti, siamo Lali Burduli e Duccio Rimberti, anche noi oltrepassiamo la fiera e vi facciamo sentire un qualcosa di veloce riguardo al nostro disco uscito da poco L'Italia canta la Russia che se volete è per tutti. Proviamo? L'Italia canta la Russia che se volete è per tutti. Oltrepassiamo la fiera? Sì, certo. Ciao a tutti!